Cosa sta aspettando? non fa male metto qua il telefono così però mi vedo non ci credo stiamo guardando in città ragazzi è un fenomeno un fenomeno no il problema è che se lo perdete strada la bottezza è un discorso no non ci credo non ci credo ma non può